Ciao amici, domani dopo un sacco di tempo vado a Milano e ho deciso di portarvi con me in questo vlog, questa è la sera prima Poco andrò a dormire perché devo partire super presto, domani oltretutto sarà una giornata pienissima Perché partirò tipo alle 6 del mattino dalla mia città per andare a Milano Arrivo e ho un sacco di cose da fare e tornerò a casa praticamente tipo alle 11 di sera E oltretutto dopo domani ho anche scuola Porterò con me anche nei giorni dopo perché poi ho scuola e dopo scuola vengono tutti i miei amici a casa mia E poi la sera andiamo a Rione che è tipo una specie di carnevale in miniatura Comunque adesso finisco di fare la mia skin care e vado a dormire Amici sono arrivato però dramma, disastro in pratica, ero arrivato in Duomo Oltretutto nella mia testa io pensavo in mezz'ora di riuscire ad arrivare al Duomo Andare a fare colazione, andare da Muji, arrivare ad Dermalogica e fare tutto in tempo Ovviamente non ci stavo riuscendo Poi che succede? Il telefono impazzisce E non andava più Maps, mi ero tutto impanicato, ho perso un sacco di tempo Quindi poi ho preso e sono venuto subito qua ad Dermalogica E adesso tipo tra mezz'ora, che ore sono? Tra mezz'ora devo entrare, adesso sto mangiando una torta Vi faccio vedere dove sto Da California Bakery Sembrava carino, l'ho visto su Maps Ho dieci minuti, non lo so Tra poco arriva Sistiana e riuscirò a fare tutto in tempo Però è stata una corsa con sta cosa del telefono Grazie a tutti Un giorno su cosa è successo Probabilmente vloggerò anche domani Perché oggi sono a fare molto per meno Di quello che pensavo Comunque Dopo il coreano siamo andati da Follows Choice Adesso alla fine siamo arrivati in tempo Abbiamo fatto tutto in tempo Super bellino Comunque molto carino l'evento E qua mi hanno lasciato un po' di cose Poi nel caso a casa vi faccio vedere tutto Perché anche Sistiana mi ha regalato alcune cose Ora le due apporto di mano qua vi faccio vedere Questi quali volevo tantissimo L'avevo letto nelle storie e me li ha portati Sono i perfetti di Clarence Troppo belli Poi io sono venuto qua alla stazione Io volevo andare da Lush Per prendermi la crema di Lush Come si chiama Tipo Curl Power Curl Power Penso non mi ricordo Comunque Troppa ansia Cioè il treno in realtà Parte da tipo 25 minuti Però Troppa ansia Ad andare da Lush Sapendo che mancava così poco Che in realtà non è poco Però vabbè Troppa ansia Non l'ho presa Sarà una scusa buona Per andare a Pisa Nei prossimi giorni O per ordinarmela sul sito E poi tipo Stavo per entrare nel treno E ho visto questi tipi Con queste falle da bere Di banchi Che si può dare la teglia Ne sono credo anch'io Stra buona Comunque Sono stata iniziando ad entrare Tutte le persone nel treno Quindi vi saluto Ci vediamo più tardi Questo vlog Però vi toglierà qualche giorno Ciao amici Come vi ho detto Il vlog continua Anche oggi Sono qua in bagno con Melanie Perché Dirà sono troppi Fanno troppo rumore E mi sto sentendo Sono un po' citati Comunque nulla Benvenuti nel mio sabato Piani per oggi Melanie Dobbiamo risolvere un caso Abbiamo comparto un caso Da risolvere Poi ci prepariamo per il rione Andiamo al rione Il rione è tipo Gente sfatta in terra Perché non è di viareggio Vestite di carne e male Cioè Sì Quei costori di carne e male Giada Ciao L'ultima volta Scusa se ti Che bella Dimmi Oddio Vai Scusa se ti 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 Scusa 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 Vabbè questo vlog è un disagio Ieri lasciamo lo stare che abbiamo fatto 4 clip E poi è andato tutto a esplodere Comunque abbiamo risolto il caso Cioè abbiamo cercato il giro del caso Poi abbiamo dato la soluzione che era veramente cretina Poi siamo andati a Rione Appariranno tipo delle foto Delle clip un po' a caso Però non ho portato la macchinetta Perché letteralmente è il posto più pieno di gente Più appiccicato E ho paura me ne esplodessero E anche oggi al carnevale non la porto Però mi sto preparando Sono un tocchino viola E nulla Guarda ci sono a casa Olivera in Virginia Tra poco partiamo Ho paura di non avere i costumi Perché in pratica la mia unica viola Che è quella che mi dà sempre i costumi Oggi stava male Quindi dicevo cavolo devo andare al carnevale senza costume Però alla fine invece c'erano i costumi Che avevo lasciato ieri a casa mia E quindi adesso la topo Scarica la macchinetta Vabbè il blog continuerà con il telefono probabilmente Ciao Virginia Ciao C'hai ancora un pezzettino La fra è alla stazione Chi? La fra La dai Ah no non è via Ho chiuso tutto E l'hai chiuso anche lo strap Sì Tipo ok Adesso noi andiamo alla stazione Perché mio padre deve andare alla stazione A comprare i biglietti per la Sicilia E poi andiamo a piedi a prendere il tuo biglietto da Viola Poi torniamo da Daila Così per le cose 50 siamo tutti lì Ok ma dove sta Viola? Vicino alla stazione Ma che è il Gio Alla stazione? Veramente vicino Vicino alla stazione Vicino alla stazione Sono un topino Vicino alle seringa Te l'ho mai visto con quel vestito Vicino alla stazione Ho visto la foto Non l'avevo vista Copertina Venite qua Oliver vieni qua prima che si spiega C'è da fare lo screen per la copertina Guardate il cappuccio C'è la tenda in testa Abbassati 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 Ok Ok Ciao Ciao amici Sono appena tornata da scuola Ho mangiato E ora penso studiare un po' Che poi in realtà ho scoperto Questa è la settimana di recupero Non lo sapevo E però mi hanno fissato delle interrogazioni Solo che il professore Ha partito dicendo che Un vizio che le ha fissate Le può fare lo stesso Mi farò interrogare Non ho voglia di fare storie Però Nulla Mi interrogarò la settimana di recupero Ho scoperto che Non si può O almeno Non ho ben capito Vabbè Vabbè comunque oggi Niente di particolarmente avvincente Nel senso Devo studiare Devo allenarmi Quindi penso che studierò Perché Oggi è lunedì E Mercoledì mi interrogo italiano E martedì sono tutto il giorno a scuola Quindi devo studiare tutto l'italiano oggi E non so molto Cioè nel senso Sono un sacco di cose Non ne so molto Ieri Ieri Sì ieri Prima di andare al carnevale Prima che arrivassero i miei amici a casa Ho ripassato un po' in chiamata Con il mio amico Paolo Che mi ha spiegato un sacco di cose Che non sapevo Però Devo finire Devo fare tutti gli schemi Devo prepararmi bene È circa un'ora Che vi ho detto che andavo a studiare E non ho studiato Perché È un po' che non studio E devo Riprendere l'abitudine Comunque Oggi non mi va Faccio la merendina E poi inizio sul serio a studiare Perché oltre a storia Cioè Scusa letteratura Devo fare anche inglese Ho letto Nel mio Calendario Quindi Devo darmi una mossa Perché devo anche allenarmi Cioè Non sono qui a fare niente Ho diverse cose Comunque Yogurt Questo qua l'ha fatto mio papà Ha preso sta roba Che fa lo yogurt Tipo C'ha sta cosa Dove ci metto tipo i vasetti con il latte Un po' di yogurt E tipo Si trasformano tutti in yogurt Figata Altra tutto E ci metto il muesli Della cop Che è il mio preferito Volevo farvi vedere clip Tutte carine in cuscina Però c'è mio fratello Che sta studiando Quindi evito di disturbarlo Comunque ci metto il muesli Della cop Ora mangerò un po' Perché sennò sborda E poi dopo metterò Sia muesli Che cereali Ciao amici Se qualcuno se lo stesse chiedendo Non ho studiato Ho detto a mia mamma Quelle tre cose d'italiano Che mi sembra di aver capito Ma Lasciamo stare Posso dire inglese Non l'ho studiato Tipo ho passato tutto il pomeriggio A procrastinare Mi sento estremamente vuoto Ed inutile Però so che il mio valore Non corrisponde A quello che ho fatto oggi Devo solo farlo entrare Nel mio cervello Dov'è A parte gli scherzi Nulla Non ho combinato niente Ma ci sta Cioè tipo Allora una settimana Che non studio a modo Quindi Devo ancora riprendere l'abitudine E però Ho mille interrogazioni Vedrò come sopravvivere Vi ringrazio per avermi seguito In questi giorni Un po' pazzirelli Un po' caotici E vi aspetto nei commenti Vi aspetto nella descrizione Del video Per leggere tutte le cose Super interessanti E simpatiche che scrivo E adesso Io vado Ok Adesso Sono pronto ad andare Ciao 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 Ciao